Durante i concerti invernali, il nostro corpo bandistico ha sempre dato spazio alla grande musica classica. Quest'anno i maestri hanno udato per la conosciutissima Arga Nessun D'Orma, tratta dalla Tural D'Or, ultima opera in computer di Dorelli Pubblici, rappresentata per la prima volta il 25 aprile 1996 alla Scala di Milano, sotto la direzione del maestro Turto Scagnino, che in seguito di rispetto sospese la rappresentazione prima del finale dell'ultimo atto, punto nel quale Lucini cessò il proprio lavoro a causa della grave malattia e della successiva morte. L'opera venne poi terminata da Franco Alfano sulle bozze che lo stesso Lucini aveva lasciato prima della morte. Buon ascolto a tutti. Prego maestro. Buon ascolto a tutti. 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 Grazie 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 a tutti.